Ti ricordi di me? Perché mi riappari con volti noti? Sfoderito hai i più grandi successi, ti compiaci di te? Tu mi vedi come vuoi vedermi, John. Adesso sei arrabbiata con me. Forse ti è più facile essere arrabbiata con me se ho questo aspetto. Tu hai parecchie domande a cui devi rispondere. E nessuno ha chiesto di nascere. Tutti noi moriamo e tutti coloro che amiamo muoiono. Già. Ed è giusto secondo te? Niente di quello che potrei risponderti avrebbe senso per te. Molto di quello che accade qui è orribile e secondo te è un sistema perfetto. Ti accorgi che sono molto arrabbiata con te ora? Sì. Perché è così difficile? Cosa esattamente? Essere vivi. Cominciamo da qui. Vorresti non essere viva? No, io... Non lo so. Vorrei che non... Facesse male. Fa male perché lo senti, John. perché sei viva. Ami delle persone, questo crea potenza, molta energia. Lo stesso tipo di energia che le gagliatomi tra loro. Visto che succede quando si cerca di separarli? Allora, se non mi affeziono alle persone, non farà tanto male. No, è nella natura umana affezionarsi alle persone, è nella ricetta. È quando voi cercate di ignorarlo e provate ad andare avanti da soli, che è orribile. È l'inferno. L'inferno nel senso vero. Grazie. Grazie.